La CGL di Caltanissetta ha indetto lo stato di agitazione ed organizzato un sit-in per gli infermieri e gli operatori sociosanitari in esubero. All'iniziativa aderisce anche FSI USAE. Si riuniranno davanti la prefettura venerdì 10 febbraio dalle 11 alle 13. La protesta ha inizio dal 19 gennaio scorso quando l'organizzazione sindacale avrebbe criticato la soluzione delle 30 ore settimanali per gli operatori proposta dalla dirigenza dell'ASP come soluzione agli esuberi. All'asile sindacale non sembra essere la corretta risposta ai lavoratori. Si tratterebbe dei circa 300 lavoratori assunti durante la fase pandemica e che ora terminata la fase emergenziale non rientrerebbero nella dotazione della pianta organica sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali nel 2019 prima della pandemia. Ad oggi e fino all'apertura delle procedure concorsuali questi 300 operatori starebbero lavorando a 30 ore settimanali. Il sindacato per loro chiede chiarezza sulla reale situazione delle dotazioni organiche con il dettaglio delle unità operative per ciascun presidio e per le strutture del territorio e che da 30 ore settimanali si passi a 36 ore come da contratto collettivo nazionale e una procedura di stabilizzazione per questi lavoratori anziché sovraccarico di lavoro tramite gli straordinari. Secondo la sigla il destino occupazionale avrebbe un impatto sulla sanità della nostra provincia. Sulla questione abbiamo contattato il commissario straordinario Alessandro Caltagirone che ha dichiarato nelle prossime ore sarà firmata la delibera per il bando di stabilizzazione e prosegue sottolineando i 300 lavoratori reclutati per l'emergenza covid non rappresentano personale in esubero tant'è che sono tutti in servizio di ciò ne abbiamo tutti piena coscienza compresa la CGL che insieme alle altre organizzazioni sindacali ha approvato l'ultima dotazione organica essendo stati reclutati con procedure straordinarie saranno stabilizzati se ne hanno i requisiti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Sono certo, prosegue ancora Caltagirone, che progressivamente saranno tutti assorbiti all'interno dell'organico tenuto conto delle attuali e future esigenze di assistenza.